Un quadro problematico per gli enti locali e regionali in Europa, perché si parla di un buco nelle casse degli enti locali e regionali creato da una mancata entrate e aumento delle uscite in periodo emergenziale durante l'emergenza Covid. È davvero così la situazione? La situazione è una situazione che comincia a preoccupare. La prima cosa che però va detta è che il barometro ci dice l'importanza degli enti locali nella lotta alla pandemia e oggi nella fase di ripresa. Quindi questo dato di minori entrate e maggiori spese, ovviamente che è un dato preoccupante, credo che richieda poi un impegno da parte di tutti, dell'istituzione europea e dell'istituzione nazionale, affinché le amministrazioni locali, le regioni, i comuni, le province, siano messe in grado di poter dare servizi ai cittadini, servizi di qualità, di poter lottare sulle disuguaglianze, perché tramite le amministrazioni locali che si fanno lotta sulle disuguaglianze, anche da un punto di vista digitale e poter quindi garantire una ripresa su tutti i territori. Credo che questa sia la vera sfida e questo sarà anche un tema centrale nella politica a cavallo tra il 2021 e il 2022, proprio perché le amministrazioni locali che, devo dire, in Italia hanno anche goduto di un sostegno nella fase Covid particolarmente importante, continuano appunto ad essere protagoniste. Quanto è importante in Europa parlare di questo sostegno alle realtà locali, nel senso, come esponenti di una provincia italiana, cosa auspicherebbe, come membro del Comitato delle Regioni, che succeda, diciamo, a livello proprio, nella gestione anche dei fondi, se non pensiamo ai Covid, pensiamo. Ma il tema è molto semplice. Dov'è che avviene che il fondo, il finanziamento nazionale ed europeo, arriva ai cittadini in servizio, che sia un asilo nido, un'assistenza per anziani, che sia un servizio digitale di altro tipo, avviene a livello locale. Quindi il protagonismo, da questo punto di vista, degli enti locali è essenziale e soprattutto tramite questa azione noi riusciamo ad avere anche un livello di coesione importante e significativa dentro le comunità e anche di coesione tra i diversi livelli istituzionali. In particolar modo riavviciniamo l'Europa ai cittadini. L'impegno che l'Europa oggi mette, sia sul fondo Next Generation, sul recovery, sia sulla parte legata alla nuova programmazione strutturale, è un impegno grandissimo, importante, che non avevamo visto anche in, diciamo, decenni precedenti. Quindi che, diciamo, ha avuto un'azione di solidarietà estremamente importante, ma questo impegno poi arriva sui territori grazie all'amministrazione locale. Quindi questo è anche un punto sul quale noi, come rappresentanti del Comitato delle Regioni, chiediamo sempre di più di investire. Quali sono, secondo lei, i settori che in Toscana potranno pagare il prezzo più alto di questa stima del Comitato delle Regioni? Beh, i settori che rischiano di pagare il prezzo più alto, a seconda di che entrate sono negli enti locali, poi rischiano di essere quello dell'istruzione, rischiano di essere quello del welfare, cioè i cosiddetti fondi di parte corrente, quelli con i quali facciamo i servizi quotidiani ai cittadini. Quindi da questo punto di vista è importante che ci sia un'attenzione. Poi il Covid ha fatto pagare un prezzo importante a tutto il settore, diciamo, turistico ricettivo, al terziario, abbiamo delle situazioni in alcune, diciamo, province, in alcuni territori preoccupanti, anche se in una fase di ripresa, ecco, mi sembra che in questo momento ci siano segnali anche positivi e che si spera abbiano appunto una loro continuità. Senti, sulle poche settimane del COP26, sul clima, la luce più disastrica in Europa e in Italia, quale sarà il contributo che le regioni italiane, tranne il contatto per le regioni, porteranno a Glasgow? Che cosa si aspetta? Beh, intanto ci aspettiamo che siano prese delle decisioni puntuali, ci siano dei finanziamenti consistenti alla riconversione appunto ecologica, il Green New Deal sostanzialmente, a livello anche, non solo a livello europeo, ma anche a livello internazionale, più in generale, l'impegno, la Terra da questo punto di vista, è il pianeta che soffre, non è un continente, quindi non può che essere fatta un'azione a livello globale. È quello anche che le nuove generazioni ci stanno chiedendo con forza, anche scendendo in piazza nei giorni scorsi, abbiamo visto anche, diciamo, l'azione forte che è stata fatta a Milano, dove appunto c'è stato un incontro preparatorio. Quindi su questo impegni precisi e soprattutto ecco un'azione di contrasto del cambiamento climatico, di contrasto dell'aumento delle temperature da raggiungere appunto quanto prima. Gli eventi di quest'ultimo periodo ecco, sottolinano l'urgenza. Confermo che le regioni e le città non sono molto coinvolte, lo sono indirettamente. Non basta questo perché non è una sfida dei governi locali, perché ripeto, chi poi attua le politiche sono le amministrazioni locali, dove avviene il cambiamento avviene sui territori e quindi sia che sia del settore produttivo, sia che sia di una riconversione, diciamo, da un punto di vista di economia circolare, eccetera, sia che sia anche di altri tipi avviene sui territori, il rimboschimento e tante altre politiche, la tutela dell'acqua, dell'area, della terra. Insomma, sono tutte politiche poi locali, quindi chiediamo che ci sia più, ovviamente, coinvolgimento delle amministrazioni locali e soprattutto anche più coinvolgimento dei cittadini. Io credo che dobbiamo trovare anche delle nuove forme per coinvolgere i cittadini in questi processi. Siete una battuta proprio al volo su il fatto che avete ricominciato a riunirvi, diciamo, fisicamente a Bruxelles. Quindi una delle regioni ha una forma ibrida, però si ritorna un po' a scuola. Dove è stato chiesto il Green Pass per entrare? Finalmente è una cosa molto positiva, perché allora sicuramente il digitale ci ha dato grandi opportunità di incontro, ma non è la stessa cosa e quindi ecco il lavoro all'interno delle istituzioni europee, le istituzioni comunitarie ha anche un lavoro di relazione e questo sicuramente ecco da oggi con questa plenaria, piuttosto che la settimana europea delle regioni e delle città, sicuramente ecco è possibile, ma soprattutto vuol dire una cosa molto semplice, che stiamo tornando ad una normalità, che non è quella di prima, la normalità diciamo su un nuovo equilibrio, con Covid e quindi con Green Pass, con tutta una serie di precauzioni, ma è una nuova normalità. Questo lo vediamo in questi eventi, come lo vediamo in questi giorni in Italia su eventi della cultura e credo a cascata anche su tanti altri ambiti.